Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze e gli aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se volessi saperne di più cosa posso fare per te, consulti in descrizione al sito rinascere.net, nel sito personale, ho riservato diversi pacchetti di consulenza, scegli quello che fa per te. C'è spesso chi mi dice, non trovo la motivazione, non trovo il come, non trovo la spinta, devo essere più motivato, voglio fare le cose, vuoi essere più motivato, vuoi fare le cose, vuoi che le cose accadano, c'è qualche cosa che vuoi raggiungere che non hai ancora raggiunto, lo vuoi? Devi farlo tu, nessuno lo farà per te, ha nessun interesse di te e soprattutto loro non verranno da te. Vuoi essere motivato? Vuoi fare le cose? Pensa a questo. La motivazione la trovi qui, forse, ma è il concetto che è molto molto banale, non devi essere motivato per fare un qualche cosa, devi pensare a una semplice cosa. Se non lo fai tu, non lo fa lei, non lo faccio io, non lo fa il tuo miglior amico, non lo fa tuo padre, non lo fa nessuno, perché a nessuno importa quello che a te importa. Che non è modo cattivo dire che non freghi a nessuno, ma semplicemente che se non lo fai tu, non lo fa nessuno, perché è una cosa che interessa a te. Vuoi quella cosa? Vai a prendertela. Non verranno loro a farsi prendere. Diventare tu. Ti interessa? Vai. Motivazione, motivazione. Come trovo la motivazione? Non c'è qualcuno che, cioè sì, se lo compri, se te lo paghi, che ti urla nell'orecchio dai, 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 posso farlo io? Se mi paghi. Può farlo chiunque. Lo fa un personal trainer, quello che ti sponda continuamente, ma la cosa fondamentale è che parta da qua, da qua, da te. Tu devi pensare io lo voglio. Quindi qual è la soluzione? Muovere le gambine e farlo. Nessuno, fuori di te, può farlo. Pensa semplicemente a questo. Non importa che tu ti svegli un giorno che non hai voglia, perché il tempo passa e l'obiettivo, invece che avvicinarsi e rimanere di dov'è, si allontana se tu non gli corri dietro. Quindi non c'entra il devo motivarmi con la canzoncina e... no. Devi pensare a una singola cosa. Se non lo fai tu, non lo fa nessuno. Quindi, ergo, devi farlo tu. Quindi fallo. Quando? Ieri. Per dire, non devi aspettare domani, perché domani sono galato, domani parto. No. Adesso. Ora. Con i mezzi che hai, con quello che sei, dove ti trovi? Parti? Vai. Questo è, secondo me, scarno scarno il concetto di motivazione. Pensare semplicemente che se non lo fai tu, non lo fa nessuno. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net dove ho riservato diversi pacchetti di consulenza per venire incontro ai vostri bisogni. Scegliete quello che preferite, ovviamente. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.